nella puntata di affari tuoi andata in onda il 10 novembre a sfidare il dottore è stata nicole concorrente della regione friuli venezia giulia la puntata ha regalato dei momenti di complicità tra il conduttore e la concorrente con un finale da favola che ha generato numerosi commenti sui social la partita di nicole non inizia nel migliore dei modi la concorrente affiancata in studio dalla madre pesca subito sia i 200.000 che i 50.000 euro un inizio horror visto che dopo nicole elimina anche i 10.000 15.000 e 75.000 euro a quel punto chiama il dottore che offre 20.000 euro assegno subito tritato dalla concorrente che però nel pacco successivo trova 100.000 euro a quel punto de martino chiede la giacca blu ad una donna tra il pubblico e la mette alla concorrente vestita completamente di rosso al tiro successivo nicole trova un blu e il conduttore commenta la giacca funziona dopo una serie di chiamate fortunate nicole chiama il pacco che contiene i 300.000 euro in finale sul tabellone rimangono un euro e 30.000 euro e il conduttore dice alla concorrente adesso non ci resta che scoprire cosa c'è nel pacco se vinci ti devi togliere i tacchi se se ne va con un euro io salgo sopra le faccio levare i tacchi e poi glieli tiro in faccia dottore de martino chiede a nicole di spacchettare anche le scarpe la prende in braccio per farla sedere sul tavolo e le toglie le scarpe un finale da cenerentola vediamo se nel pacco c'è una zucca o una carrozza nel pacco di nicola alla fine c'erano i 30 mila euro e de martino festeggia